Il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio regionale Paolo Romano, i punti salienti dell'attività consigliare di quest'anno? Abbiamo fatto il bilancio rispetto a tutto il lavoro che ha svolto il Consiglio regionale in quest'anno. Abbiamo un'abitudine normale che c'è nella nostra gestione perché è giusto che i cittadini, la stampa, conoscono nel dettaglio il lavoro che il Consiglio ha prodotto in un anno di lavoro. Abbiamo approvato in quest'anno norme importanti, l'ultima quella sulla terra dei fuochi, dove rispetto a questo argomento io mi sento in maniera chiara e ineguocabile e di ringraziare anche i nostri rappresentanti a livello nazionale che stanno dando un forte contributo a quelle che sono le tante difficoltà che noi stiamo affrontando in Consiglio regione Campania. Io penso che il Governo nazionale ha dato negli ultimi mesi un'attenzione che in passato non si era mai verificata. Penso che questa sintonia con i nostri riferimenti nazionali non può far che bene alla nostra regione, alla crescita e alla risoluzione delle tante difficoltà che questa regione dovrà affrontare nei prossimi mesi. Sul fronte dei tagli lei più volte ha sottolineato l'impegno del Consiglio regionale. Quest'anno che cosa si è prodotto? Noi dobbiamo mettere in evidenza un dato, è un numero importantissimo. Noi nel 2010 quando siamo arrivati qui in Consiglio regionale c'era un bilancio di 87 milioni di euro. Adesso siamo a 57 milioni di euro, ripeto ma è un bilancio triennale. Noi in quest'anno, nel prossimo anno di amministrazione, contiamo, perché questo mi è stato già riferito sia dal questore alle finanze ma anche dagli uffici che seguono le vicende finanziarie, sicuramente saremo in grado di mettere in campo un'ulteriore riduzione dei costi ma questo lo potremmo fare al consuntivo. Quindi comunicheremo la capacità che abbiamo avuto in questa direzione, la direzione del risparmio. Nei prossimi giorni potrebbe essere chiusa la prima fase di indagine sulla questione dei rimborsi e dei fondi che riguardano i gruppi consigliari. Se ci dovessero essere una serie di rinvii a giudizio, questo potrebbe incidere sul futuro del Consiglio regionale? C'è un'indagine in corsa. Quando finirà si trarranno le conclusioni, ma rispetto alle quali non credo sia più opportuno mettere sempre insieme il lavoro che fa il Consiglio rispetto a quelle che sono delle cose, qui c'è massimo rispetto nei confronti di chi sta procedendo in quella direzione, però aspettiamo e poi rispetto alle risultanze ognuno si regolerà come più opportuno ritiene fare. Sul piano politico nel 2013 c'è la grossa novità della nascita del nuovo centrodestra. Sul piano del Consiglio regionale, della giunta Caldoro, più in generale, ci potrebbero essere novità, cioè la richiesta di una verifica? Noi al momento siamo nati per dare un maggiore impulso e maggiore forza all'azione amministrativa del governatore Caldoro. Poi è chiaro che insieme a lui ci sederemo, ragioneremo per vedere quale poi deve essere il percorso per rafforzare questo nostro contributo. Ma certamente si andrà sempre nella direzione di rafforzare il nostro impegno all'interno del centrodestra e a favore di un'amministrazione regionale di centrodestra.